Sera parla ancora a venire, noi ci mettiamo questo buon sole e questo primo caldo, primaverite, quindi bene unico di cuore e poi studiamo il ben ritornato dottor Paolo Maria Correra che oggi ci offre una visione perché vediamo delle immagini e poi una lezione che penso sia molto interessante e per me è un altro gentilissimo affascinante perché quando si legge la Bibbia appaggiano nella Sacra Scrittura amperi, fiori e frutti e se ne danno un certo gusto alla lettura della Sacra Scrittura. Sì, ci sono molte immagini che si fanno poi, per esempio, l'olivo, quasi l'olivo, quasi un ramo olivo, sono i santi, pure i giusti, come piocchi in riva al fiume o per dire la nostalgia del paese lontano di salici piacenti e poi la raccolta dei comuni e poi la raccolta della riva e poi i fiori e poi i profumi. Quindi davvero la Bibbia è cosparsa proprio di queste immagini, proprio come se fosse un'infiorata, bella e bella interinfiorata. Sono quelle immagini, ho partecipato alla festa del Corpus Domini a Spello, quando ero diacono, e quindi alle quattro di mattina raccogliere soprattutto i petare di Ginesta, per i monti, su Basio e poi in fine di preparare queste infiorate e poi alle undici, mezzo giorno, tarda mattinata, la bella processione per tutte le vie medioeval di Spello. Ecco, così, tutte piccole immagini che riguardano e la sacra scrittura e anche quello che è l'aspetto liturgico sacro. Quest'oggi, in festa della mamma, abbiamo distribuito alle mamme che sono tutte ammessa cento rose, con una piccola frasetta dove si richiama proprio la bellezza del fiore, come la bellezza di una mamma. E, beh, no, queste piccole suggestioni che sicuramente ancora meglio ce ne daranno agli otto quali erano. Quindi, buona conferenza per noi, buon ascolto, che ancora ne possiamo guardare frutto, per innamorarci sempre più della sacra scrittura, della Bibbia e quindi anche attraverso le parole del Signore anche innamorarci sempre di più della bellezza del creato. Buon ascolto. E' da accendere col tasto lì. Ok. Grazie. 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 esempio Galileo sosteneva che il libro della natura fosse scritto con linguaggio matematico e che prego nel seicento che Dio avesse creato tutto secondo un modello geometrico. Il libro della sapienza afferma che i fenomeni della natura che hanno grande bellezza sono come le opere di un artista attraverso cui per analogia possiamo conoscere l'autore del creato. Tra questi ci sono le piante che sono anche legate a dei messaggi divini che ora vi illustrerò sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, spesso legate alle loro caratteristiche. Comunque nelle piante troviamo sempre due aspetti, bellezza e utilità. Ogni pianta è particolarmente bella ma è anche un piccolo laboratorio chimico contenente sostanze utili per la vita dell'uomo. e anche degli animali. Le piante della Bibbia e le citate della Bibbia sono spesso quelle che si trovano sull'uovo e a volte sono piante invece importate attraverso le vie carovaniere. io parlerò oggi in particolare della geografia dei luoghi biblici o meglio della geografia della salvezza. Spesso si parla di storia della salvezza ma quasi mai di geografia della salvezza. Che cosa vuol dire questo? Che mentre noi troviamo delle località citate nella Bibbia come Gerusalemme, il lago di Tiberiade che vedete in foto e altre ancora esistenti oggi, così noi troviamo sul suolo di Israele e Palestina specie che sono delle specie di piante che sono rimaste praticamente quasi le stesse da 3 mila anni a questa parte. Oltre 100 specie di piante sono nominate i 73 libri della Bibbia, quasi tutti accettate, su alcune invece i studiosi avanzano delle ipotesi. Com'è stato possibile risalire i nomi delle piante, visto che sono nominate spesso in ebraico, perché il Nuovo Testamento è stato scritto soprattutto in ebraico antico, ovvero non mi passi in aramaico, per esempio il libro di Daniela Leva, il Nuovo Testamento è greco. Com'è possibile essere certi che si riferissero, chi ha scritto la Bibbia si riferisse a certe piante o ad altre, attraverso un confronto tra varie lingue, in particolare dopo la conquista della Palestina nel 637 da parte degli arabi, molte parole aramaiche, aramaiche è un dialetto antica lingua che è ancora parlato oggi nell'Iran, sono state incorporate nella lingua araba e ciò ha permesso, mediante il confronto ai nomi delle piante di lingua ebraica, ossia anche greca e latina, di identificare molte di queste piante. La maggior parte di piante sono descritte nel Vecchio Testamento, per esempio nel Pentateuco, cioè Genes, Genes e Esodo, le diti con numeri di Piero Longo, nel libro di Salia, nel profeta Salia e nel Cantico dei Cantici. Quelle maggiormente citate sono Grano, Incenso, Cetera del Libano, tra l'altro di cui ho visto un bellissimo esentuario ieri nella vila Durazzo-Pallancini, proprio enorme, che viene appunto dal Libano proprio, Lino, Fico, eccetera, fino all'area da Zafferano che ha una sola citazione, quindi da 175 a una citazione. Questi sono alcuni dei testi a cui noi ci siamo riferiti nella bibliografia del libro che è esposto in vetrina, Le piante della pebbia. Noi ci siamo riferiti, per esempio, a questo libro di Noga a Reuveni. Vediamo, in alto a sinistra, Iconogi a Reuveni che ha costituito un piccolo museo biblico negli anni 30-2030 a Gerusalemme del secolo scorso. Il famoso libro di Zoari, Flansson de Pagno, dell'82, da cui ho tratto molte considerazioni anche sulla miniatura. Poi c'è in alto a Reuveni di Budazzi, una polacca, che ha fatto un confronto tra il libro di piante della Bibbia che era scritto da variatori in vari libri. Poi sono altri libri, tra cui il barrio biblico di Paolo Coltrera, addirittura del 1860. Il nostro libro, fatto da me e da antiguatori, è il primo libro in lingua italiana su questo argomento, scritto da poco, oltre 150 anni. Poi c'è l'Israele di Bruno Foggi, un libro in francese, e un libro di Luce Humann, le piante della Bibbia e del Corano. Qua vediamo alcuni dei tantissimi articoli a cui ci siamo rifatti, per esempio alcune utilizzazioni di carte nella medicina popolare del Bedouin, nella medicina di Greenberg, eccetera. L'articolo che vedete in alto a sinistra è quello che ho scritto io nel 2008, su una rivista che si chiama Natural Lungo Alboristica, e poi successivamente mi sono incontrato con la professoressa Grilli, la prima autrice del libro verde che vedete sotto, e con il dottor Travilli. Abbiamo fatto questo libro del 2011, Le piante nella Bibbia, che trovate anche in vetrina esposto. Abbiamo iniziato a presentarlo nel 2013, poi abbiamo fatto anche presentazioni, tra cui per esempio l'ultima all'orto botanico di Roma. Poi, pochi giorni prima che scoppiasse la guerra fra Hamas e Stato di Israele, era stato invilato anche il rabbino a un capo di segni, un vescovo con un settore di Roma, una evangelica, e sotto vedete c'è un sacerdote che ha organizzato il conto con Franco Nardini, i tre autori. Poi abbiamo anche fatto delle iniziative didattiche, siamo stati chiamati per esempio presso una scuola a Zagarolo, dove hanno fatto nel 2016 una piccola mostra di piante bibliche e un libretto. Quindi abbiamo realizzato questo volume nel 2013, secondo edizione del 2015, che ha molte schede immagini a colori e molte tabelle epilogative. Quello che è importante secondo me è la tabella con i nomi delle principali piante della Bibbia in ebraico, greco, latino ed arabo. Mai era stato messo a conforto d'arabo con l'ebraico, e spesso moltiplici sono simili. Il nome del numero delle piante citate nella Bibbia corrisponde a un quarto di quelle note allora nel mondo classico, che erano circa 500 specie portate da Teoflasto, Plinio e Dioscolide, e corrispondono a circa quasi il 5% delle specie dell'attuale flora di Israele, che corrisponde a circa 2.600 specie. Io personalmente ho potuto vedere e osservare da vicino molte di queste piante, nel corso di otto viaggi, delle minaggi che ho potuto compiere con me e mia moglie, per esempio in sala, in terra santa, e quindi ho potuto anche fotografare e raccogliere in alcuni casi. Altra volta ho potuto osservare tra i sorti botanici, per esempio quello dell'Università di Jerusalem e di Engaddi, o Ahingedi in arabo. Tengo a sottolineare che la terra di Israele, la croceria figurò base africase, quindi un punto cruciale, cioè di passaggio proprio tra questi tre continenti. Tra le formazioni vegetali della terra santa distinguiamo una vegetazione di arana costiera simile a quella italiana, una vegetazione di matti e boschi con varie specie di quercia, una vegetazione di garighe come il monte Carmelo, e anche un'altra rigenerazione invece di steppe alborate, dove predominano per esempio grandi alberi di terebinti o presse l'alberi di Tiberiade. Tra le componenti della flora biblica, pianta autottone, ad esempio i terebinti, che sono dei grossi alberi molto diversi dai nostri, che sono specie invece arbustive, e hanno dei nomi che in ebraico indicano Dio, cioè il termine Elak, per esempio il termine dice dal nome di Dio El, in ebraico. Poi appunto abbiamo piante a distribuzione mediterranea, come esempio la mandragola autunnale, l'ortica plurifera, la quercia Montetapro, presente però anche da noi in Puglia, il Tarrumbo, e poi abbiamo un terzo gruppo di piante originale dell'Africa, tra cui la caccia randiana, con cui stanno costruite l'arca dell'Alleanza, citata nel Vieto del Stamento, e il sicomoro, che deriva anche dal sotano. L'importazione sono invece piante asiatiche, per esempio il rinanto, di cui parlerà Frateambo nella prossima conferenza, o la momo, e dall'Alandia proviene l'incenso, mentre dal corno d'Africa deriva e appiene la milla. ora iniziamo a parlare delle piante del Vecchio Testamento, di cui, insomma, un po' argomento parlare, ci proverò. La prima pianta citata nella Bibbia è il figo con cui, diciamo, Adam e Deva si coprono, perché si accorgono di essere muti. Il peccato di Adam e Deva è quello dell'uomo che è sempre pronto a aggersi sopra Dio, li vediamo gli effetti in guerra, eccetera. Poi, un'altra pianta citata è l'olivo, simbolo di pace, perché la colomba inviata da Noè, dopo l'odio universale, hanno il becco una voce di oliva. Ovviamente l'odio è stato usato anche nel Tempio, nel Tempio di Israele, ne ha parlato anche un'altra volta, per Lunguenti, per Lungeri, Sacerdoti e Re. Poi, appunto, anche i peccati compagliano sempre nella Genesi nella storia dei Patriarchi. Per esempio, il Signore appare a Abramo alle tre querce di Mamre, e Abramo ha alzato gli occhi dei tre uomini che sono il simbolo della Trinità per gli cristiani, e li accolse con gioia. Nella storia di Giuseppe, deportati in Egitto, troviamo il latano. Che cos'è il latano? È una sorta di resina ottenuta dal cisto, che è una pianta della macchia mediterranea, cioè tu credo che possiamo vedere qui vicino, se andiamo al sul mare. E non è invece il laudata, che invece è una miscela di olpe zafferano venduta in farmacia. Insomma, è una resina locale. Potremmo parlare anche delle piante della notte di Pasqua, le cosiddette Arebeamare, che rappresentano l'amarezza, ricordo dell'amarezza della schiavitù in Egitto per gli ebrei. E loro fanno ancora oggi tutti gli anni la Pasqua ebraica, con la base di cicoria, caccialepre, però appunto una specie locale, non una ricardia pedroide, insieme al nostro, ma una ricardia di Egitto. E poi, per esempio, potremmo parlare dell'issopo, l'issopo biblico di cui parla Davide, nel Salmo 50 dice «Purificami come sopra e sarò non dato, un rasmesso più bianco della lei». Che cos'era di sopra? Che cos'è? Una canta simile al nostro origone maggiorana, che era usata come aspersorio del sangue dell'agnello sulle porte delle case di ebrei, dopo le piante dell'Egitto, per impedire all'angelo sterminatore di entrare e quindi di entrare in tradizioni ebrei. E quindi come strumento di bonificazione è in realtà diventato un simbolo di umiltà, di umiltà perché, infatti Salomone dice parla sia del centro del Libano che del maestoso, ma al contrario dell'issopo che sbucca da un muro, con una delle gatte più piccole. Poi nella Bibbia il colore bianco è simbolo di purezza, infatti vediamo che nella foto al basso a sinistra, presa l'ultimo taglio in Giurusalemme, risulta con i colori bianchi proprio, con i confiori colore bianco. Si vorrebbe poi parlare del mandorlo, la verga di mandorlo di Aronne sbocciò così, produsse improvvisamente del miracolo fiori, gemme, fiori e frutti, e questo mise fine a una unita tra le trini, che stavano ancora nel deserto. Nel passo della nozione di Geremia c'è un gioco di parode, come il mandor lo vigila annunciando la primavera, perché fiorisce il prima fiorire d'inverno, si chiama Shaked in imbrato, che deriva dal verbo Shaked essere frettoroso, perché il mandor lo frutta di fiorire, così Dio si rivela con quello che vigila sulla sua parola per realizzarla. Shaked originale, chiedendo al profeta di non più darsi dell'apparenza, eccetera. Poi i simboli israele, citati nel capitolo 10 del nostro libro, vedete il candelabro braico, la menorà, il candelabro ha sette braccia, probabilmente i misteri si sono ispirati a delle piante dalla forma proprio a candelabro, come salvia palestina, salvia judaica, però si parla anche di altri, come per esempio questo, sotto c'è il verbasco insinaitico, che ha pure quella forma, che rappresenta la luce di Dio stesso, come già nel versetto, la tua parola è una lampada a mio sasso, e una luce al mio cammino. Vi sono poi delle protesi sulla manna biblica, di cui sappiamo l'esalta natura. Alcuni autori suppongono che potesse essere un'estudata zuccherina di una tabarice del deserto, Tamanis in Lodica, oppure di altre piante con un'amada salicornica, che presse Bellini, ancora chiamata oggi manda, quindi c'è questa radice della manda, o anche altre ancora. Noi vediamo sotto un articolo di Dandini, che poi ci dirà in seguito, che parla della mananzina e di altre piante, di storie vegetali. Vediamo a destra questa amada salicornica e Tamanis in Lodica. Quando gli ebrei entrano nella Terra Promessa trovano sette piante, e la cartolina metti in alto è la cartolina delle sette specie della Terra Promessa, che sono Fumento, Orto, Pichi, Fichi, Milograni, Olivi, che manca una, Milograni, Palma, Fico, Uva, vabbè, sono sette. Palma Natatteri. La Palma Natatteri che entra anche nelle piante della Pesta delle Capanne, che sono quattro. sono Palma, Salice, Milto, e il cedro a lungo, non il cedro del Libano, ma il cedro che vedete sotto, chiamato Exadar. Perché? Perché questa festa che ebrei ricordano che hanno pagato a lungo del deserto, fermandosi nelle ovasi rappresentate dalla palma. Poi hanno attraversato il Giordano, rappresentando una pianta che cresce lungo i fiumi, come il Salice. Hanno trovato poi la natura selvaggia, rappresentata al Milito, che è pianta mediterranea. In fine, hanno creato coltivazioni di alberga frutta, rappresentando il cedro al grume. E per il rinorno della Pesta delle Capanne, loro preparano delle capanne che devono essere decorate da palme che non dovranno essere messe in modo troppo fitte, in modo che guardando il cielo, possano ammirare le stelle. Questa è la necessità di avere una vita spirituale. L'uomo deve avere veramente lo spirito e l'uomo deve essere verso l'alto. Tra le grandi città del Milo Brano, per una credenza ebraica, il Milo Brano contiene 613 semi come i comandamenti della Torà. Poi c'è appunto l'assenzio, che rappresenta un po' il male e la morte. Infatti dice nell'esilio, nell'alimentazione di Geremia, c'è il verso, il versetto mi ha saziato con erbe amare, mi ha dissecato con assenzio. Il simbolismo ripreso nel Nuovo Testamento. Nel cantico di Daniele invece vediamo tre fanciulli, in Toscaria e a Babilonia, che poi salutati dal fuoco, da Dio, cantano il famoso Cantino delle Tentrature che si legge ogni domenica nelle Lodi della Domenica, e l'odano il Signore della Riazione. in base a questa, pensiamo anche a San Francesco al Cantino delle Tentrature, insomma proprio a questa riflessione sulla bellezza del creato, Papa Francesco ha promulgato in cinque, di cui ha parlato già un'altra volta, che ha questo riguardo contemplativo, protettivo sulla natura, e che appunto ha ispirato anche la nostra ostra. Sono citati e legati anche nei salmi, per esempio il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, salmo 92, felicità per l'uomo dalla tua famiglia quest'altro salmo, la tua sposa con le vite feconda, i tuoi figli come il dirguto di oliva ha tornato a mezza, salmo 128, felice l'uomo, il salmo 1, che si compiace nella parola del Signore, sarà come albero cantato lungo i porcorsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo. Poi nei libri sapienziali si parla di rose, rose canine, e anche di rose cresciute sul torrente, e queste rose sono ovviamente gli oreadri. nel Cantico dei Cantici ci sono citate poi moltissime piante, di cui alcune molte profumate, molte spezie, per esprimere l'amore della sposa per la sposa, cioè tra di due il suo pomolo, per esempio albero di cipro, cipro è l'innè, nardo, zafferano, cannella, cenamomo, mila e aloe. L'aloe, per quanto riguarda l'aloe, non è l'aloe, pensiamo noi quello con le foglie succose e succulente, ma è un'aria perlocca, che è una specie proveniente dall'Estremo Oriente, ed è usata nel Vecchio Testamento per profumi. poi le mele, i giri, i narcisi, eccetera. Si parla poi della pippe, di fare dei profumi particolari, secondo l'albero e profumiere, cosiddetti tiniati, e questo era la base anche di incenso, anche di altre resine, storace, eccetera. L'incenso parleremo dopo. Alcuni fitotoponimi, cioè i nomi di luoghi, derivano da piante. Per esempio, Getsemane, derivata, significa frattoria delle olive, l'orto del Getsemane, in cui ci fu la passione di Gesù. Il nome Tamar, Alma, dal luogo dei toponimi. Per esempio, Borbetonim, derivata a Borbetonim, pistacchio, per esempio, Betfage, che si cita nel Vangeli, che significa la casa dei figli verdi, e così via. Poi i nomi di profumi derivati da piante, sono per esempio Tabach, come del Palma, Pura, Pura, deriva dalla Robbia, che è una pianta fintoria. Ester, significativamente il dito Susanna, da Shusha, il Giglio. E tra i nomi maschili, che sono di Mela, di Fenuglio, di Olivo, Ore, Nezart, Significa Olivo. Qui, ecco, vediamo alcune simbologie relative a piante bibliche, tra cui, per esempio, il centro del Libano, ha già detto, rappresenta forza, rigore, per esempio, il Giglio, Innocenza, Purezza, Vincenzo, legato a Dio, Rissopa, L'Umiltà, la Mirta, la Mirta, la Mirta, la Mirta, la Mirta, e poi, la tabella, di cui parlavo prima, con i nomi, delle principali specie, le quattro lingue, greco, latino e arabo. Passiamo al Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento, alla nascita di Gesù, si parla di questi doni, offerti dai Re Maggi, solamente un Evangelista nomina questo episodio, che i Re Maggi offroni un dono a Gesù, Bambino, Oro, Innocenza e Mirta, perché questa stella, Già che Clero, nel 1603, parla di una congiunzione tra Giove e Saturno, che avviene ogni 794 anni, e forse nel cielo della Palestina comparde una stella molto luminosa, che erano appunto queste due, Giove e Saturno, congiunti. Questo è denominato anche nella tavola planetaria, consegnata a Bellino, della tavola di Sippa. I simbolismi sono questi, l'Oro rappresenta la vitalità di Gesù, l'incenso nella sua divinità alla Mirta e alla prevenzione della sua morte in croce. Per quanto riguarda Vincenso, Marco Povero porta nel Milione che, capitolo 31, quindi abitanti di un paese della Persia, narravano come tre di loro si fossero recati tanti anni prima per stare un profeta, nato da poco, e avevano portato con loro tre offerte, oro e incenso in Mila, per poter riconoscere se il profeta fosse Dio o per un sapiente. Pensavano, se prende oro è ora bene, se prende incenso è un Dio, se prende lì è un sapiente. Lo adoravano e gli offrirono l'oro e incenso in Mila, e il bambino prese tutte e tre le offerte. Bene, passiamo a piante delle parabole di Gesù. La prima, una delle più importanti, è la Senape. Fa parte delle specie esclusive del Nuovo Testamento, insieme ad Amonita, l'Omenta, Ruta e l'Izzania. La cosa è simile al Regno di Dio, è simile a un Regno di Senaba, che un uomo ha preso il piettacolo dell'orto, diventa un arbusto, il uccello è un uccello, e del uccello si posano tra i suoi rami. Allora, cos'è questa Senape? È una fiore con quattro tetane a croce, una pianta che cresce molto rapidamente, perché ha i semi piccolissimi. In realtà noi abbiamo visto qua a Prassicanira, ma ci sono diverse specie di Senapi presso il lago di Galilea, verso il mare di Tiberia, insomma di Galilea, dove, sembra appunto, Gesù abbia detto la famosa parabola, dove abbia fatto il discorso della montagna, e raccontato queste parabole. Quindi parliamo anche di Sinapis Salva, Sinapis Arvensis, o Sinapis Iucea, ora chiamata Prassica Iucea, che abbiamo nome. Comunque, spiante da febbre piccolissime, che crescono molto rapidamente, che possono arrivare a due metri, per cui io stesso ho potuto mostrare con gli occhi come certi uccelli passeranti, su queste erbe presenti o con le rive del lago, oppure sulla collina sovrastante, o su altre erbe anche, perché in quella zona c'è il passaggio di uccelli che vanno dall'Africa alla Turchia viceversa. Quindi questa parabola sembrava, insomma, molto azzeccata, che richieda. Tra l'altro l'ansiavo si usava anche per fare curcure, semapismi, per curare blocchi, tosse, eccetera. Poi c'è la parabola della Zizzania, il Regno dei Segreti Cegli che è simile a un uomo che ha seminato di buonissime, però, mentre tutti dormivano, viene il nemico e semina Zizzania. Questa Zizzania è rappresentata da un fungo del genere ketonium, che si fossa sull'olio, che è l'olio che è una piatta, diciamo, nel barciaca, che il brocca cresce insieme al grano e può, diciamo, rovinare a non essere grano. Poi, vediamo il Giglio dei Campi, quando Gesù dice perché vi affannatevi i vestiti, osservate, con questo il Giglio dei Campi, non lavora, e pure Salomone vestiva come uno di loro, Gesù poteva aggiungersi forse al Giglio bianco che vedete in alto a sinistra, a destra, però il Giglio bianco non è molto frequente oggi in Israele, che si presenta solo sul Monte Carmelo, cresce insomma spontaneamente in poche località, forse Gesù si riferirà ad altre specie, così dico, di botanici, tra cui, ad esempio, alcune specie di iris, o gladioni, o tulitani, o la lemone coronaria, che tra l'altro è una lemone che noi vediamo anche presso i nostri fiorai, che è stato rimesso in certi posti, oppure al Giglio di Mare, per cazzo in marittimo, che noi troviamo anche sulle nostre coste. Ecco, vabbè, il Giglio ovviamente è anche simbolo molto ottimizzato dall'economia cristiana, quindi per l'annunciazione, simbolo di piante, particolari santi come San Giuseppe, San Vigio Gonzaga, San Frantiaro, e poi c'è il simbolismo del grano e della vite. Noi troviamo più di 500 citazioni relative al grano frumento e derivati di pane e farina, nella Bibbia, e 450 per la vite e derivati, cioè vino, mosto, vigna, eccetera. E pensiamo al fatto che il Cristo dice sono la vera vita e il parvenimento di chimiolo, eccetera. E pensiamo all'istituzione dell'Eucharistia, questo è il mio corpo che dice Cristo, dato per voi, vencendo il sangue, dice il vino, dice questo è il mio sangue offerto per voi, per la nuova eterna alleanza. E si potrebbe poi parlare dell'ardo, di cui il padre Anno dicevo, il padre Anno, pianta dell'Imaia, che cresce a 2.500-3.000 metri di altezza, ancora oggi da un vento preziosissimo e costosissimo, si narra che una donna versò olio di Nardo sui piedi sul capo di Gesù. e nel Cantico dei Cantici, il vento di Nardo è per tradizione ricordato come un evento che sigilla il matrimonio. la sposa però, appunto, la sposa dopo nozione, non si dava una fiata di un guento da usare il futuro nei ritifumi del consorte. Gesù stesso allude a questo simbicato simbolico come premonizione della sua migliante morte e sepoltura. quindi il Nardo è il simbolo di novità. L'ingresso di Gesù a Gerusalemme avviene con un gran concorso di folla che prende le darchi della mentale e che paggetta, mette sulla strada dei mantelli e delle fronte. e da questo probabilmente nascono le giorate che ho parlato un'altra volta del periodo barocco e poi Gesù parla del chico di grano che se non muore non produce frutto, riferendosi a se stesso e appunto muore in croce e viene colonato di spine le spine rappresentano i fatti che a volte non sentiamo a comprendere e poi morendo viene insieme a Gesù si è stato volto da una mistura di mila e di aloe che portarono al sepolcro circa 30 kg cioè 100 libri di mila e aloe per imbalzamare il corpo di Gesù e comunque chi crede alla risurrezione di Gesù è un angelico appena in un giardino e da cui è anche ascesa al cielo e si indiene che le radici degli olivi oggi presenti siano le stesse degli alberi che furono testimoni di questo patto infatti parliamo di piante molto molto vecchie alcuni dicono che potrebbero essere duemila anni insomma comunque questo olivo che vedete in basso a destra è uno degli olivi che è presenti nell'orto del Gezzemani le parole di Gesù sono le ultime ecco sono comunque tutti i giorni fino alla fine del mondo abbiamo visto che Dio ci lascia diversi indizi della sua presenza anche attraverso la bellezza della natura e anche la bellezza fino a tutto del Dio stesso e San Francesco di Assisi attraverso la creazione si metteva in comunicazione con Dio e si faceva in tempo nella logica di Dio dando voce a tutte le creature una risurrezione di Gesù è un argomento di fede anche se lui ci ha lasciato diversi indizi come scrive Vittorio Messori che motivo avevano gli apostoli di mentire quando mostrano se stesso come traditori quando scrivono che Gesù appare a posto di credori addirittura la prima apparizione appare davanti a delle donne che non avevano nessun credito nel passato e se la fede non si opporre alla ragione è sempre comunque un affidamento a Dio perché Gesù dice infatti ti ringrazio padre perché tu hai nascosto queste cose sapienti che ho parlato di Lamma ma non riferimento a Dio che sono diventati anche più intelligenti e anche più intelligenti e l'agricchiatura quindi tra te la ricerca una parte opzionale che è dedicata a una religione della Chiesa forse la più importante la sacra sindone di cui parliamo noi io e i miei due e quattro or nell'ultimo capitolo e libro e le piante della Bibbia Do alcuni aggiornamenti. Ecco, già parlato dell'Aveo della Mirla, si parla nell'angelo di un lenzuolo, ancora oggi nella scrittura ebraica, gli ebrei usano il Tadesh, un lenzuolo di lino, posto sopra la pala, e questo lenzuolo, la similità sarebbe proprio un lenzuolo di lino, con l'immagine dell'uomo dei dolori di Isaia, che si ritiene sia stato portato da Gerizola in Maedessa, nell'attuale Turchia, e poi a Costantinopoli, Istanbul. Scompare per alcuni settori, poi ricompare in Provenza e poi è trasferita in Torino. Nella prima volta la similità è stata fatta in Torino, da secondo Pia, nel 1898, mentre sviluppava la lastra fotografica, lui si accorse che l'immagine è fissata sulla lastra in positivo, quindi si inviava che sulla tela era un'impronta applicativa. In positivo, invece, risultavano anche le manchi di sangue, circa 120 impronte simili a quelle lasciate da un flagello. Alcuni non hanno creduto a questa immagine di Pia, però quando le foto sono state ripetute nel 1931, da Enor Lini, alla presenza ancora del secondo Pia, si dite che lui aveva ragione. Il lino è una pianta da fiori azzurri di lini oggi non più tanto coltivata. Nel 1988 sono stati prelevati tre campioni di tessuto e sono stati datati con il metodo di radiocarbonate in diversi laboratori. Il risultato annunciato è 1260-1390 dopo Augusto e gli anni successivi sono relativizzati dalla cipollente. Scrive Bruno Barberis, la datazione medievale contrasta con i vari risultati ottenuti in altri campi di ricerca. In realtà la sindone è puro lino tessuto a spina di desce, filato a mano, contorsione delle fibre in senso orario, filato a ricordo a zeta in senso orario, a zeta ad s in senso anti-orario. Questo telo della sindone assomiglia molto a teli venuti a Palmira in Siria, d'altar Mirach nel deserto della Giudea. Ci sono appunto dei dati della tessitura che si rifanno alla tessitura medio orientale che non era più praticata nel Medioevo. Inoltre sulla sindone sono state trovate tracce del sangue del gruppo AP, che non è un gruppo di sangue molto comune, e un'altra che conteneva un'altra percentuale del bilirubina, indice di persona fortemente traumatizzata prima della morte. Botani, che ha citato l'ultimo mese Silvano Scandirini, morto nel 2005, autore di oltre 250 pubblicazioni, scrive appunto anche lui delle critiche sulla relazione con la dell'Albonia. potrebbe essere stata tralzata da funghi o batteri, di un paio di spuzze sul telo. Poi il fatto che nella lavorazione della pianta di lino viene eliminata una parte composta di grassi e proteine che meno rinvergono argomio radioattivo rispetto alla fibra tessile, farebbe risultare la fibra rinazzo del telo più giovane della pianta rinazzo dalla quale è stata estratta. Di questo si dovrebbe tenere di conto. C'è poi il discorso dei pollini ritrovati sulla Bibbia, abbastanza criticato oggi. Dal 1973 al 1976 uno studioso di pollini che non ha luogo, pizzerò, non cattolico, Max Frey, con laurea in scienze naturali contese sulla flora siciliana, studiò alcuni pollini prelevati con nastri adesivi dalla sindone, con un metodo molto particolare che imprendeva molto, prendeva le nastri adesivi e piggiava molto. Lui disse che aveva trovato circa 70 tipi di pollini, di cui molti medio orientali, qualcuno ha trovato anche a Idessa, Urfa e a Stambul. Lui ha concluso che, in base a quei suoi studi, il tessuto assorzionato in Palestia, Turchia, Francia e Italia, e ha effettuato sette spedizioni, tipi di cari pollini. Poi non c'era ancora il pollino di Olivo, tra questi è stato spiegato per il fatto che lui, cioè il di Olivo, fiorisce a maggio, fra maggio, fino a maggio e giugno, quindi se la sindra si riferisce proprio a Gesù, signore Gesù, la maschera è venuta precedentemente. Lui muore, trematuramente nel 1983, e ancora un paio delle sue ricerche, i suoi pollini, tante sono stati studiati ancora, da Botani Buribaruk, un pallinologo israeliano che poi ha cambiato lavoro per la Buribaruk, negli anni Novanta, per scambiolini, i pollini, questi pollini tra l'ordida Frey, hanno fatto due indizi molto interessanti sulla strada della Sindone, però sono indizi e non proli tra l'ugine di Palestini e di Trentino. Purtroppo, i protocolli sperimentali nei testi di Frey sono solo accennati di sfuggite, quindi i pallinologi criticano un po' questi lavori. Uribaruk ha declassato molti di questi pollini classificati come piante, come specie, come cognome, solamente ha declassato all'arma del genere, solamente col cognome. Però, come che l'ha nato, l'ha nato a pallinolo da Marta Mariotti Lippi dell'Università di Firenze, scrive nel 2011, facendo riflessioni su anche un libro, che era un fanfare che era uscito anche su internet, che era contrario a questa dimostrazione dei pollini, della correttezza, praticamente non mi sento autorizzato a contenere il giudizio negativo dato su Frey, come un fatto di buona fede e correttezza morale. Il limite è che lui ha voluto, a tutti i costi, identificare il livello di specie grandi che vi trovava. E comunque, lei scrive che riducendo questo elenco all'osso, rimanevano sempre alcuni pianti medio orientali, ma per questo che la storia era sengiorata in medio rette. Paul Malone, archeologo stato di utenza, nel 1986 acquisisce campioni privati da Frey, però poi osserva anche parti di olte e poli, parti di piante e frammenti di fiori, finalmente antere. Questo allora è proprio suggerito al pallinologo Orville, che sulla sindone siamo stati riposti i fiori. Il muro è proprio della sua storia. E ora passiamo al capitolo delle immagini di piante sulla sindone. Negli anni 70-80, nello secolo scorso, sono stati osservati sulla sindone di immagini di fiori, di maggio 83, da Scheuermann, poi da Alan Langer, professore di University, e queste vengono sbrigate con l'effetto corona, cioè se uno, per esempio, tiene delle piante di fiori che restate in libri o in carta assorbente, carta di giornali, dopo pochi anni si sviluppano delle impronte, delle immagini, perché sia la carta che il lino della sindone sono composte di cellulosa. Sulla cellulosa si ripostano dei fenoli, proimmagini da queste piante, altrimenti che danno tipiche impronte, altrimenti spiegate come effetto elettronico, sono stati o con emissione di elettroni. Questi coniugi vanger statunitensi chiedono aiuto a un botanico israeliano, certo a vino mandalino, che io ho conosciuto personalmente, e non è cominciato a vedere queste immagini, e nel 1999 pubblica un lavoro flora della sindone di Torino, edita dal Missouri Botanical Garden degli Stati Uniti, in collaborazione con l'Uranger e con l'Uranger. Tra l'altro lui non è cattolico, questo Danin è il massimo esperto della flora israeliana, di cui ha scritto molte specie, creando anche un database della flora. Alcune immagini di Danin riesce a riconoscere ha avvenuto durante un'ostenzione della sindone nel 2000, altre le vede prima su vari tipi di foto scattate da diversi fotografi. Qua appunto spiego, in questo libro c'è un'intervista, cosa l'ha spinta a affrontare questo studio, lui è stato contattato, inizia con un po' di creduto, poi si è messo in gioco. Io posso dire che ho conosciuto personalmente il professor Danin, ricordo ancora dal 2001, con l'aiuto dell'interprete Margherita Morgante, ho parlato con lui all'aeroporto di Fiumicino, lui era di passaggio per andare a Palermo, con l'Università collaborava, e li portai vari piante, i miei campioni di piante determinati che era raccolti da me in Israele e Palestina e lui mi aiutò anche nella determinazione, nella rideterminazione di alcuni campioni. E poi parliamo un po' abbastanza lungo di tutte queste sue scoperte, anzi, addirittura l'interprete era anche una cosa che non mi riferiva perché era talmente interessata a questa cosa che non mi riferiva tutto. Comunque, poi ho, se l'ho rivisto altre volte, per esempio, un giorno nel 2012, la mattina all'Università della Sapienza, dove tengo un seminario, con cui faccio vedere il foglio interruttivo, la ricerzione di Israele, un esperto di piante del deserto di Israele, e poi mi dirigio invece alla Reggina Postoloro, l'Università Sanche di Roma, a cui ha fatto una conferenza sulle piante della Sindone. È una persona un po', in come dire, particolare. Ha scoperto 49 specie di piante, 5-8 specie, ha scritto 7 libri, il primo ha scritto «Fiori di Gerusalemme» in ebraico e arabo, poi ha avuto altre traduzioni, ha scritto oltre 240 articoli su riviste e 50 relazioni ha ricordato i corretti internazionali. E ecco, come faccio vedere, me ne ho ricordato delle specie che ha iscritto lui a partire dal 67 fino a 1.000, quindi io sono arrivato a 1.000, fino al 2009, le ultime specie sono state iscritte in collaborazione con botanici di Palermo, che io conosco, ha sempre il professor Raimondo, che è stato presidente della Società Botanica Italiana. Lui che cosa ha individuato sulla Sindone? ha visto un bel attorno ai forti che è praticamente un cardo, tanto di cui mi ha portato anche un esemplare che lo conserva a Roma. E poi ha visto questo cappere egiziano, che non è cappere ostral, ma è una specie diversa, lo Zicopillum dumosum, e allora la prima specie cresce a nord, anche in Turchia, spungendosi da sud fino a Gerusalemme, la seconda cresce da Gerusalemme fino all'Egitto, a sud, e qua c'è la terza specie, il Cistus creticus, che vedete, quello con quei fiori simili che è un po' una rosellina, una rosa campestre, il Cisto, anche questo, è stato sulla Sindone, e per cui lui dice che l'unica zona in cui la Sindone può avere avuto, diciamo, in cui sulla Sindone possono essere stati riposti questi fiori in cui è una zona situata fra Gerusalemme e Ebro, per farlo vedere la cartina di distribuzione. Allora, questi monimi, in particolare queste immagini sulla Sindone di fiori, come potrebbero essere spiegate? Pensiamo, per esempio, quando c'è stata la morte di Yitzhak Rabin che è stato assassinato in premier israeliano che voleva fare la pace tra Israele e Palestina, è stato assassinato da alcuni proprio fanatici ubrei, e lui, sul luogo della morte, sono stati riposti moltissimi fiori, la stessa cosa è avvenuta anche sul luogo della morte della regina della lady italiana, la lady italiana. Ecco, la stessa cosa potrebbe essere avvenuta anche con Gesù. C'erano delle donne che seguivano Gesù che erano assistito alla crocefissione, potrebbero essere state loro a depositare fiori e piante in onore del maestro e alcuni resti di piante potrebbero essere rimaste sull'inzolo funebre. Questo della lady italiana di Rabe dichiarano lo stesso da Ninna, lo scrive appunto a destra, la fila di Gia. Lui comunque trovò sedici specie sulla sindone che sono elencate qui in questo primo lavoro del 99 e lui le vide anche in marini di foto, queste foto di Enrique di 31, di Pia del 1898, di 1000 e del 78, di 1000 e del 78 con tecnica diversa, fluorescenza e poi anche osservandole personalmente. ecco, questo l'ho già fatto vedere, psicofillum dumosum e comunale a torriforti, il cardo, i due capo reggiziani e un'altra torriforti. Vedete, gli ariali si incrociano nella zona che a Gerusalemme è di Debro e questi sono dei libri che escono successivamente l'uomo della sindone in italiano, intervista di Hector Guerra, padre Hector Guerra a Danim, Flores e Plantas della Sabana, Sattro, del Sabano di Venezia, che è il sindone, Sattro di un suolo, e poi il botanico, di Sattro, Gerusalemme in 2010, quindi 2008-2011 e 2010, in basso c'è anche la dedica che mi ha fatto lo studioso a me. Lui vide, cosa vide? Per esempio, questa immagine di Montelli a Torriforti, questo cardo, disse così, quando ho visto quelle mie altre immagini della Montelli era emozionatissima, questo ho visto nella conferenza a cui assistito nel 2012, il capo è una piccola, spinne e spinne lunghissime puntite. Poi l'avrei visto in altri tipi di foto della sindone scattato negli anni. L'infiorescenza di Montelli si vedeva sempre sulla spalla destra nella stessa posizione. Ovviamente ci vuole un occhio particolarmente allenato per vedere queste immagini perché non tutti riuscirebbero a vederle. Gli ultimi testi citati importano il veroamento di infiorescenze di specie del tipo asperaceo composite sul capo dell'uomo della sindone come la Camunilla o l'Antevist di Borum prima del vero che è una specie del troppo che è un canogravo. Qui vediamo ancora immagini del capo regenziano di November Dumosum individuate nel 99 anni seguenti. Vediamo sotto Danim che sta studiando. A destra abbiamo la cartina di distribuzione dei tre indicatori geografici citati cioè il cistus la lindemia è la deofillum Danim dice c'è una sola zona nuova in cui poi queste tre piante possono essere state messe sul corpo dell'uomo. Il tempo di fioritura a questa tabella fatta nel 99 si aggiunge Danim aggiunge questa antemist Borno in vero nel 2011 e vedete che la maggior parte del periodo di fioritura coincida al massimo con i mesi di marzo aprile coincidenti più o meno con la pasqua lembraica e in questo libro c'è la relazione di padre di Torguerra e immagini di una mostra realizzata sulla sinistra su queste immagini a Gerusalemme dopo il 2000 e si vede bene si vedono bene anche delle impronte lasciate da una pianta spinosa con delle spine tremende ramus niciodes sono specie greca che ha queste spine a 150 gradi però si vedono lui ha visto anche le spine di zizifus spine acristi cioè specie di giungiolo che hanno una spina dritta e una curva mentre ramus niciodes ha spine a 150 gradi oltre a frutti di pistacque è fatto uno studio sulle varie spine conservate in varie cantità in Italia e in Francia e ha detto appunto che in Francia ci sono 70 spine in Italia una 100 in Francia e 70 in Italia molte sarebbero da studiare esattamente qui c'è ancora una lista di specie botaniche ritrovate appunto dicevo da questi 16 si ne giungono altre 3 si parla anche di una camma che sarebbe stata usata quella camma come scelto che schierano e dare a Gesù una spina brusa in bruta di aceto e di una corrida utilizzata per cadare a Gesù dalla croce qui vediamo qua parliamo di un po' all'innesso dalla pubblicazione del 99 ma questo dicevo molti grandi pochi di specie sono stati ricalzati al genere e da allora dal 2008 dice che per lui i metodi rischi i metodi malinologici in cui lo studio della sindone perdono di importanza mentre rimane in lui la condizione che invece ancora va è lo studio delle immagini floreali viste sulla sindone circa alcune questioni cosa conclude questo dell'area dell'area in cui insieme delle 3 piante indicatrici potrebbe essere stata raccolta e posta sulla sindone accanto al corpo dell'uomo della sindone dell'area da Gerusalemme a Ebro i mesi di marzo e aprile sono il periodo dell'anno in cui circa 10 tra le piante identificate sulla sindone contemporaneamente in fiore spina come nato di due alberi sono state trovate accanto alla testa dell'uomo l'anno si diceva che è su specie greve e si diceva spina cristi e anche una camma è stata collocata accanto al suo corpo la sincronia della sindone questa non deve sudare più niente non ne parlo neanche perché sarebbe troppo lungo comunque inoltre aggiungo io su immagini della sindone scattata da diversi di alberi si osservano le stesse piante speciale attenzione è apposta attorno ai fiori che torna il capo dell'uomo della sindone che ha tra l'altro una somiglianza con l'icona del Cristo pantoperatore consegnata nel monastero di Santa Cania del Sinai e questo farebbe risagli della sindone al 550 da non purtroppo muore nel 2015 un'ultima cosa ipotesi sulla formazione dell'immagine della sindone si è parlato di esplosione nucleare ma ovviamente l'esplosione nucleare potrebbe distruggerebbe non solo la sindone ma tutto nell'alto di molti chilometri allora il fisico Giuseppe Baldacchini già dirigente presso il centro di cerchi anelli trascati ha elaborato nel 2015 un'ipotesi scientifica il processo di amnichilazione materia-antimateria è sempre fantascienza questo però tanto lui ha notato che sono stati secondo lui diversi tentativi di distruggere la sindone incendi eccetera comunque lui afferma anche che la sindone può essere il più importante di tutti gli oggetti storici esistenti dunque lui dice praticamente che una colorazione simili similisimidoni è stata ottenuta utilizzando fasce di rotoni effetto corona scariche rettine e radiazione ultravioletta si parla di radiazioni messe in un tempo brevissimo e con l'energia elevata ma non troppo questo ha valuto l'ipotesi che la causa dell'immagine corporea possa essere stata un'esplosione di energia conterante le giuste componenti di radiazione simili a un lampo di luce poiché non ci sono stracce esterne alla sindone e il catavere è un'era più contenuta dalla sindone quando gli apostoli danno una tomba nel mattino dopo il sabato si deve concludere che è stato lo stesso catavere a provocare l'esplosione e a diventare trasparente alla sindone quindi lo studioso ipotizza provando dei calcoli molto complessi che io ho detto neanche a decifrare che non sono fisico ma si deve che la risoluzione sia venuta utilizzando la stessa dinamica fisica della reazione dell'universo nel Big Bang un'intensa e brevissima radiazione in quel tipo laser ha rigenerato l'immagine corporea che si osserva sulla sindone inoltre il flusso isotropo di neutroni avrebbe ringiovanito un tessuto di circa 1300 anni quindi praticamente avrebbe spiegato perché la sindone è stata datata come un reperto medievale la stessa cosa si può applicare al giudario di Ogheto anche se appunto l'ipotizia che era posto a 15 cm dal capo dell'uomo della sindone quindi la datazione è giudario 700 dopo visto e non diversamente alla fine Baldattini scrive cosa impedisce a Dio di fare i 10 miliardesimi di secondo la risurrezione e quello che aveva già fatto i 10 miliardi di anni cioè la vita ma va beh questo lascio a voi ognuno può interpretare come vuole infatti dicevo che questo era l'indice opzionale alla fine di questo la versiglia è una verità misteriosa questa è una frase di San Giovanni Paolo II testimoni della Pasqua la passione morte e risurrezione e anche la provocazione all'intelligenza e forse le gocce di sangue scritte non sa che si hanno rimasero a ricordarci per sempre la passione le ombre segnate in fuoco per indicarci la risurrezione capalla della nostra risurrezione futura forse l'ultima immagine che lasciò sul nostro pianeta in deciso momento che la bandola dice Valerio Massimo la parola della risurrezione allora nella metrina che voi vedete qui sulla vostra sinistra avete tutta una serie di piante che le raccolte nella terra santa tra cui anche c'è la statica agli erogunti nella erba della risurrezione che si chiama così perché diciamo è una pianta dei deserti che si gonfia quando piove e che invece si secca quando il tempo è secco e quindi anastatica perché anasta si significa resurrezione i rami si aprono rapidamente quando piove c'era le frutti piccane le semite alla materina chiamate anche kaf mariano cioè mano di maria o kaf fatima cioè la mano di fatima per il momento usate a scopo rituale in palestina chiamata anche pianta del parto shidra al kalas perché mentre la donna inizia il travaglio viene rossa in acqua si apre e questo in questo modo sembra che appunto simula l'apertura del lutor della donna quindi è stata in maniera vetangurante come diciamo tranquillizzante a molte donne sia musulmane che palestinese di vita cristiana come libia eccetera ecco concludendo il discorso che avevo iniziato all'inizio sempre parte la parentesi sulla sindone il tangelo si risponde negli atti di apostoli che è narrato questa questa vicenda soprattutto per la pubblicazione di san paolo e tutto il bacione dell'aria e san paolo ricorre ancora qualche paragone epotanico esempio dice prima che l'insidio piantai a quello che dicò ma Dio fece crescere poi ad Atene fa il ricorso della resurrezione ma quando sentivano parlare di resurrezione dei morti alcuni lo ridividevano altri dicevano su questo ti sentiremo un'altra volta ma alcuni si unirono a lui e divennero pretenti concludiamo il nostro viaggio sull'isola di Patmos dove san Giovanni avrebbe scritto l'apocalisse ecco questa foto è stata finita da Mio Padello Gabriele che è stato si vede l'isola dall'alto si vede in basso anche la chiesa dedicata a san Giovanni evangelista dove avrebbe scritto appunto l'apocalisse nell'apocalisse il simbolismo dell'assenzio che rappresenta una grande stella che cade dal cielo e si chiama assenzio che si unica male castigo il simbolismo della palma appare una moltitudine immensa molti stavano davanti al trono di Dio e di Daniela molti investiganti che portavano palma simbolo dell'alto è il simbolismo del vino ralleviamoci e sfruttiamo sono giunte le nozze di rallello la sua sposa è pronta e ha dato una veste di vino puro sul pendente le veste di vino sono le opere dei giusti potremmo ancora parlare a lungo ma concludiamo ancora con una frase di Giovanni II che disse a giovani a Santa Cruz a Firenze nel 1986 è necessario che il nuovo torni a guardare alla natura che è un libro che porta un messaggio di speranza questo messaggio non attende di essere decifrato un messaggio di amore con cui io voglio raggiungere il cuore di ciascuno per la prima speranza vi ringrazio per l'attenzione se voglio farmi domande sono ben lieto di rispondere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti